E adesso passiamo a un brano di un talent. Andiamo anche a casa della nonna. Andiamo dalla nonna, ma da un brano classico, come su Dato Innamorato, a un brano che chi critica i talent l'avrà ascoltato, chi li ama e chi li odia, distratto della Michelin, che è la ragazza, Francesca, che però non è lei qui. Da Trapani abbiamo Sara Calderona, 9 anni, e ama il latino americano. Eccola! Chissà, Mariella, che voce avrà? Mariella, vedremo lei la voce. Ecco, elegante, chic. Allora, il codice 06. A volermi male di un male, che fa solo male, ma non ho perso l'onestà, e non posso dirti se passerà, tenerti stretto quando è in fondo, e non posso dirti se passerà, tenerti stretto. E non vedi che sto piangendo, se ne accorgi non sei tu, non sei troppo distratto. Ehi, 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 ehi. Vedi che sto fingendo, e non mi guardi sa più, vuole fare nessun altro, sta a fare? Non mi liberai mai più Non mi ferirai Non mi illuterai E non sarà mai più Un'ora, un giorno, forse un po' di più Non girava il mondo se non c'eri tu E non volermi male adesso Se non ti riconosco Veramente brava con questo look Paola con la rosa che ricorda Billie Holiday, no? Mariella, la rosa da una parte È in tinta proprio con il collante Complimenti! Ricordiamovi che gli artisti da Ella Fitzgerald, Billie Holiday In qualche modo, non perché Ma bisogna anche ricordare gli artisti che hanno fatto I grandi I grandi I grandi I grandi I grandi I grandi